Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Matti e oggi andremo a fare l'estrazione del contest di Netflix che ho lanciato l'altro ieri e andiamo a vedere chi sono i vincitori ragazzi allora dico in anticipo che terrò conto solamente dei commenti dove è stato scritto partecipo non terrò conto di altri commenti del tipo GrandeMaxi o altre cazzate ragazzi quindi sapete da soli che la regola era quella diciamo no quindi andiamo a vedere andiamo e vediamo quanti sono i partecipanti quanti sono mi piace, 64 mi piace, 4 non mi piace qualcuno ha anche la sua idea insomma no può anche non piacere quindi andremo a incollare il link vi faccio vedere l'ora ragazzi e il giorno questo è il giorno, questa è l'ora, sono le 12.10 e quindi come dicevo andremo a incollare questo link in random comment picker eccolo qui ragazzi e andremo a vedere chi sono i fortunati vincitori e se hanno tutto quanto in regola ovviamente ragazzi perché non è che io prendo e vi regalo l'account così insomma, allora a questo punto, load comment abbiamo tutti quanti i commenti ragazzi quindi dobbiamo solamente cliccare andiamo a cliccare e vediamo chi è il primo MMA airfighter vediamo subito se MMA airfighter ha tutte le carte in regola allora video piaciuti ci siamo con i video piaciuti ci siamo ragazzi vediamo le iscrizioni di MMA airfighter intanto vi tengo aggiornati sull'orario e abbiamo anche l'iscrizione ragazzi quindi MMA airfighter può insomma contattarmi su telegram può contattarmi anche qui su youtube magari gli lascerò il contatto telegram e gli passerò i dati dell'account quindi passiamo al secondo ragazzi quindi MMA airfighter passiamo al secondo estratto tengo aperta la pagina così ci ricordiamo di chi è anche lui ha il video piaciuto e l'iscrizione sembra che ti è iscritto proprio a questi giorni Antox 493 no non so non so ragazzi se sei iscritto prima se sei iscritto dopo comunque va beh ha le carte in regola e tutto il resto quindi andiamo a premiare Antox che anche lui mi potrà contattare e MMA airfighter questi due sono i diciamo i vincitori di questo contest come avete visto abbiamo controllato le iscrizioni di uno e le iscrizioni dell'altro quindi è tutto regolare sono le 12 e 13 del 12 aprile ragazzi cercherò di fare più contest di questo tipo settimanalmente quindi rimanete connessi sul canale ragazzi rimanete connessi sul canale perché ci saranno altri contest di questo tipo e magari anche di altro anche di altro anche del tipo cazzo ne so account PSN o altre cose insomma quindi rimanete connessi sul canale perché cercherò di fare più contest magari vari vediamo se riesco a fare qualcosa su Spotify su account di questo genere e vedrò di regalarvi un po' di account quindi vi consiglio di rimanere collegati sul canale magari di esplorare un pochino di più il canale anche perché mi farebbe piacere di lasciare qualche like in più e niente ragazzi detto questo questo contest finisce qui spero di farne altri in settimana sempre di Netflix e poi vedremo che altro riusciremo a tirare vuoi detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti no mercy ciao a tutti